I Gea Virtus da urlo al Dal Contres Barone e i barcellonesi fanno ricredere tutti gli scettici della vigilia, bookmakers compresi, e firmano un tris d'autore nel derby contro la CR Messina. Non succedeva dal lontano 1997. Tre reti che fanno esplodere l'entusiasmo dell'ambiente giallorosso e che impongono una serie profonda pausa di riflessione in casa CR. A tal proposito sembra che il sodalizio presieduto da Pietro Sciotto abbia revocato tutti i permessi ai calciatori e la squadra torna quindi ad allenarsi già da oggi. Un 3-0 che non ammette repliche che porta le firme del giovanissimo Miuccio, autore di una doppietta, e del barcellonese Lancia. Nota di colore, al Dal Contres Barone era presente ieri anche Cristiano Militello della rubrica Striscia lo striscione e della nota trasmissione televisiva Striscia la notizia. Tornando all'aspetto strettamente calcistico, i barcellonesi stazionano al secondo posto con quattro punti dietro la corazzata Bari che ieri ha strapazzato la San Cataldese. La CR Messina invece fermo a quota zero in fondo alla classifica nell'altro match di serie di Pirotecnico 3-4 tra la città di Messina e Gela. Una gara pazza e vibrante. Gela in vantaggio dopo otto minuti con Alma e raggiunto al trentanovesimo da Galesio. Nel secondo tempo tre gol in tre minuti, tutto a botte risposta. Il Gela torna in vantaggio con Soe al 51esimo, il città di Messina pareggia con Fragapane al 52esimo e al 53esimo ospiti ancora in vantaggio con Alma. Pareggio giallorosso con Ferraù al 68esimo, al 72esimo Sicignano segna il gol del definitivo 4-3 per i Gelesi. Nel girone A del campionato di eccellenza il Sant'Agata supera di misura il Canicattì per 1-0 e si attesta alle spalle delle capolista Mazzara e Licata che viaggiano a punteggio pieno. Nel girone B il sorprendente termevigliatore capolista con sette punti si sbarazza del Santa Croce con un tennistico 6-0. Il Camaro pareggia 3-3 a Marina di Ragusa. La Ionica perde 4-0 in casa dell'Atletico Catania. Ha riposato il Milazzo.